Quasi 200 persone hanno partecipato lunedì mattina 1 agosto al perdono degli Assisani, il pellegrinaggio che, come d'antica tradizione, raggiunge la Porziuncola. Il gruppo è partito dal centro della città, passando per il santuario della spogliazione Vescovado di Assisi ed ha raggiunto la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Numerosa è stata la partecipazione delle confraternite, dei religiosi e delle religiose, dei presbiteri e dei diaconi, che si sono ritrovati sui passi di San Francesco con canti, preghiere e meditazioni. per prepararsi a ricevere l'indulgenza della Porziuncola. La solennità del perdono di Assisi si è aperta poi con la celebrazione eucaristica presieduta dal ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli. Nel pomeriggio sono seguiti i primi vespri della solennità e l'offerta dell'incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale è stata guidata da padre Luciano De Giusti, ministro provinciale dei Frati Minori di Abruzzo e Lazio. Lunedì 2 agosto la solenne celebrazione della mattina è stata presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivesco emerito di Genova. Durante i due giorni del perdono di Assisi si sono tenuti anche tanti eventi nella piazza della Basilica, che hanno fatto da cornice alle celebrazioni liturgiche.